Per me il coraggio, almeno nella mia vita, un momento che mi ha richiesto particolare coraggio è stato partire, andarmene, decidere di affrontare la solitudine, il nuovo e l'ignoto. Per me il coraggio è la forza di cambiare strada quando è il momento giusto. Un gesto coraggioso della mia infanzia, una capanna in un bosco, cinque ragazzini da soli per una notte, spaventatissimi, io dovevo dare coraggio agli altri, ci ho provato ed è stata una delle più belle notte della nostra infanzia. Per me il coraggio è svegliarsi, avere appunto il coraggio di essere come siamo e vivere come siamo. Per me il coraggio